E' cominciata il lunedì pomeriggio la stagione 2021-2022 dell'Audace Cerignola. La formazione Giallo Beusi è ritrovata allo Stadio Monteresi, accolta dalla nuova diregenza e da un piccolo gruppo di tibosi che hanno avuto il permesso di godere dei primi passi della nuova squadra. Il patron Danilo IV e il gruppo societario si è intrattenuto con loro prima dell'inizio della scambatura e la conoscenza riconferme Ennio Entricon, il tecnico Michele Vazienza. Sì, non ho mai avuto un minimo di dubbio sul calore e sulla voglia di calcio di questa fantastica città e di questa gloriosa società. L'ho detto fin dal primo giorno e finalmente siamo arrivati ora a respirare il tanto amato odore dell'erba e quindi il calcio giocato, che questa è una città, è una squadra che ti entra davvero nelle vene. Questo giallo-blu ti inizia a pulsare nel sangue per scorrere lungo tutto il corpo e ti regala delle emozioni spettacolari. Allo stesso tempo sono sempre straconvinto che questa squadra merita palcoscenici ben più ampi e col duro lavoro e tutti insieme, insieme a questa città che, come lo ripeto, ha veramente questa intensa fame di calcio e col duro lavoro si potranno raggiungere traguardo importante. Mimmo Siena, World News 24 Sporta.